Paolo Zicconi riduce da un successo travolgente quello del concerto che si è svolto nei giorni scorsi al Teatro Civico di Alghero. Zicconi canta a Tenco, si aspettava un affetto del genere soprattutto da un pubblico molto giovane? In parte sì, in parte sì perché il pubblico di Alghero poi alla fine mi ha sempre seguito. Io non ho avuto modo di lavorare tanto qui ad Alghero ma quelle poche volte il pubblico, inteso come pubblico e non come istituzioni, è sempre a corso numerosissimo, comunque sempre al di là di quelle che erano le aspettative. Tu sai che quando si fa un concerto solitamente ci si aspetta, non si fa quanta gente verrà, più o meno tutti noi ci facciamo dei calcoli e dei programmi in tal senso. E diciamo che il pubblico è sempre andato al di là, è sempre stato in più rispetto al previsto. Quindi sì, me lo aspettavo, mi aspettavo anche molti giovani perché comunque Tenco è anche un cantautore per i giovani, può sembrare stranissimo ma i giovani lo hanno riscoperto molto in questi ultimi tempi, proprio per le tematiche che sono estremamente attuali. Una responsabilità importante, quella sul palco accompagnata da dei musicisti che sono nel panorama sardo, sicuramente tra i migliori, ma anche in platea con un'erede della tradizione e della famiglia Tenco, la nipote Patrizia che è anche una sua amica ormai da anni. Esatto, infatti siamo amici da anni, lei mi aveva promesso che sarebbe venuta a questo concerto che poi in effetti non era la presentazione di un CD ma in qualche modo era legato, ed è un concerto legato al CD che sta uscendo in questi giorni, dal quale poi il concerto ha preso il titolo in qualche parte del mondo e questo CD ripercorre gran parte dei pezzi che noi abbiamo proposto, naturalmente si ampliano un po' i musicisti perché si sa che in un CD puoi avere un maggior numero di collaboratori di musicisti rispetto a quello che poi è un concerto, dove devi limitarti esattamente a quelli che poi ti accompagneranno effettivamente. Nel CD, essendo un lavoro dilatato nel tempo, godi anche di diverse collaborazioni. E quindi Patrizia mi aveva promesso che sarebbe venuta e è venuta, l'ha fatto e questo mi onora molto perché poi lei comunque rappresenta a pieno titolo la famiglia Tenco e proprio l'eredità di Luigi Tenco, quindi è molto importante. Ed è stata anche molto contenta, l'ha detto durante le presentazioni finali, i saluti finali, di aver restituito una visione un po' più divertente, un po' più ironica di suo zio. Ma sì, perché poi Tenco è stato vittima anche di uno stereotipo, questa tragica fine e più certe canzoni, aperta parentesi, che poi sia chiaro, che secondo me sono le più belle, chiusa parentesi, che hanno quella vena malinconica caratteristica, hanno anche creato lo stereotipo, cioè la morte più le canzoni si sono fuse nel creare lo stereotipo del cantautore triste. In realtà poi così non era perché lui ha dimostrato una grandissima ironia e un grandissimo acume a prendere in giro le diverse situazioni e anche qui sta l'attualità, situazioni che tutt'oggi ritornano puntuali, cioè lui ha cantato più di 50 anni fa delle cose che noi oggi possiamo benissimo continuare a vedere. E lei invece quando ritornerà? Si dovrà attendere altri dieci anni, come ha sottolineato, non senza una nota di polemica? Vabbè, questo può dipendere in parte da me, nella misura in cui io mi propongo, nel momento in cui ho qualcosa da dire, cioè se non ho niente da dire non mi propongo, questa è una mia caratteristica. In gran parte non dipende da me nel momento in cui sono anche le istituzioni che non rispondono, diciamo, al contrario di questa volta invece. E quindi speriamo che io adesso mi ripresenti. C'è tanto da dire nel mondo cantautorale, c'è tanto da dire nel mondo di Tenko ancora, c'è tanto da dire persino nel mondo più classico dal quale poi io parzialmente provengo. Quindi chissà, certamente non mi fermerò qui, abbiamo altri progetti nel futuro e quindi io li riproporrò. Poi sta anche a chi deve raccogliere, a chi deve ricepire questo, ascoltarmi e darmi la possibilità. Già il 2 di gennaio io sarò a Sassari, al Teatro Ferroviario, dove sempre con Materia Grigia, che ha organizzato anche il concerto di Alghero, riproporrò lo stesso concerto. Che quindi ha avuto la sua prima qui ad Alghero e replicherà a Sassari il 2 gennaio. Ovviamente non ci sarà Patrizia Tenko perché non è che possa prendere sempre l'aereo e venire qua, però il concerto sarà lo stesso, sarà replicato a Sassari, al Teatro Ferroviario, che ha visto nascere nel 2010 proprio questo progetto.